Montesilvano, almeno nell'immaginario comune, è una cittadina recente, priva di storia o perlomeno intesa come un apparato della storiografia della città di Pescara. Da oggi però la storia di Montesilvano acquista nuova dignità grazie alla ricerca di Antonio Farchione, che con il libro Montesilvano, Viaggio tra storie poco note, riporta alla luce tutte quelle vicende montesilvanesi che prima nessuno aveva mai indagato. Antonio Farchione in questo libro riporta alla luce notizie e fatti avvenuti nella città di Montesilvano davvero poche note ai molti. Sono una serie di domande che ho cercato in qualche modo di rivolgere a dei montesilvanesi doc. Montesilvano, Viaggio tra storie poco note, è edito da Costa Edizioni e contiene al suo interno anche fotografie e documenti mai pubblicati che testimoniano la storia sulla riva del mare Adriatico. Grazie a tutti.